Siamo arrivati finalmente all'inaugurazione di questo campo in erba, voluto fortemente e volumente dal Comune e dalle società sportive. L'importanza che può avere questa struttura per i ragazzi è evidente, perché dobbiamo dimenticare e ricordarci che nonostante siamo in periodo di crisi dove è difficile reperire dei finanziamenti e dei fondi, purtuttavia ci sono degli obiettivi importanti e gli obiettivi importanti quali i ragazzi, per cui cultura e sport è quello che noi dobbiamo cercare comunque di attivare. Quindi l'amministrazione è contenta di questo risultato e ci auguriamo quindi che questo importante investimento possa arrivare ad avvicinare ancora di più i giovani allo sport. Ok, va bene.